Dopo quattro settimane di sostanziale riduzione, l'ultimo report pubblicato dall'AS di Piacenza relativo all'emergenza covid con riferimento alla scorsa settimana, segnala una situazione stazionaria. I nuovi casi sono 881, quattro in più del precedente bollettino, con un più 0,6 per cento di crescita. La situazione piacentina è paragonabile a quella lombarda, dove si registra un più 1,8 per cento. La media regionale e quella nazionale continuano invece a scendere, rispettivamente a meno 9,5 per cento e meno 12 per cento. Continuano i monitoraggi periodici nelle case di residenza per anziani. Gli screening recenti hanno permesso di far emergere 16 nuove diagnosi tra gli ospiti e 14 fra gli operatori. I casi sono per la maggior parte asintomatici, sono stati individuati solo grazie al monitoraggio periodico effettuato nelle strutture. Per quanto riguarda le fasce di età delle nuove diagnosi salgono gli indicatori per i più piccoli, per gli adulti dai 41 ai 65 anni, con un incremento più ampio per gli over 80. Come già ipotizzato è molto probabile che questa situazione sia dovuta a una riduzione dell'efficacia della copertura vaccinale. Per questo l'ASL rinnova l'invito a procedere con la quarta dose per le categorie per le quali è previsto ultraottantenni e persone fragili tra i 60 e i 79 anni. Per quanto riguarda la situazione della rete ospedaliera, la media giornaliera degli accessi in pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile al covid rimane attestata a 7 ingressi al giorno. La media settimanale dei ricoveri è in discesa, da 110 a 73. In terapia intensiva è ricoverato un paziente positivo. I decessi covid registrati negli ultimi sette giorni sono stati 11.